buona quattro bravo allora ingresso l'abbiamo bene di là giallo l'abbiamo bene di qua dentro di qua dentro di qua l'abbiamo ho visto che stava partendo la vuota dietro però a me sta guidata bella grazie facciamo la 5 e poi andiamo a bere qualcosa si mi sento un po' di arsura si comunque stavo parlando un po' di arsura ho sottovalutato tra l'ispetta qua 5 mi sa che è indietro un arco l'abbiamo 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 salvato l'abbiamo l'abbiamo o c'è corruzione himself ha il